La scelta di andare in Francia è stata dettata da avere l'oceano a portata di mano. Sono attaccatissimo all'Italia, mi sento italiano nel profondo di me stesso. Purtroppo il nostro paese non è bagnato dall'oceano e quindi per una disciplina come quella che faccio è un piccolo handicap. In questo momento la Bretagna è la zona in cui tutti i navigatori oceanici con progetti ambiziosi stanno convergendo e quindi la scelta per certi aspetti è stata semplice. La scelta di andare all'estero per quanto mi riguarda è stata relativamente semplice. La mia famiglia ha deciso di seguirmi, mia moglie quando le ho prospettato l'idea di trasferirsi all'Oriane per questa mia campagna ha accettato con molto entusiasmo questa proposta. Dopo un paio di anni che abbiamo fatto in via sperimentale trascorrendo circa sei mesi in Bretagna ci siamo resi conto che in fondo la vita è tutto sommato è gradevole. E in ogni caso per poter continuare in questo momento a fare un progetto ambizioso per certi aspetti sono comunque legato a quel luogo poiché tanti tanti avversari in gamba che appunto sono protagonisti nelle classifiche di regate oceaniche si trovano lì. È molto più semplice che mi sposti io da loro piuttosto che riuscire a portare loro in Italia. Il 2013 in 30 secondi ricco di emozioni, comunque ho vinto lo champion de France, primo nel ranking mondiale, il record del trofè MAP è stato forse uno dei risultati che mi ha emozionato di più. Un secondo alla Mini con quella tappa annullata che ha lasciato un po' l'amaro in bocca a tutti mi fanno fare un bilancio positivo della stagione, danno fiducia in me stesso e in quello che è il metodo di lavoro che sto portando avanti. Quindi credo che adesso il continuo sia restare con i piedi per terra, continuare a lavorare con la stessa dedizione, con lo stesso entusiasmo e cercare di andare avanti con l'atteggiamento di qualcuno che è a scuola e ha sete ogni giorno di imparare delle cose nuove. È la prima volta a cui partecipo a questa bellissima manifestazione e sono venuto qua senza aspettative, non ho avuto occasione di dirlo sul palco ma ritengo che gli altri nominati che erano me sul palco siano dei velisti veramente veramente bravi che condividono insieme a me su strade diverse tanti valori come il sacrificio, la dedizione, la concentrazione, la tenacia nell'inseguire un progetto sono valori bellissimi che credo tutti per aspetti diversi incarniamo e quindi mi sono sentito molto onorato e voglio esprimere un sentimento di grandissima stima a tutti i ragazzi che erano sul palco insieme a me per questa finale.